wow sono in un gioco per computer questo è veramente figo oh ehi facciamolo guarda impressionante vero oh sì guarda me non farlo troppo tardi ci vorrà molto di più per fermare la mia bolla ora basta adesso sei nei guai questo è il mio ultimo cioccolatino quindi ne deve valere la pena un po drammatico direi sì scusa sei pronta oh wow guarda tutta quella bontà cioccolatosa sembra ottimo non vedo l'ora devo assaggiarla adoro questi biscotti ecco che vado beh com'è è ok o io lo so hai bisogno di un bicchiere di latte grande idea prendi un biscotto grazie ma prima devo aprire il biscotto in questo modo poi dagli una leccata ora possiamo immergerlo nel latte perfetto com'era molto buono non immaginavo cos'hai tu mi ero quasi dimenticata gomme proprio quello che serve dopo uno spuntino devo mantenere l'alito fresco dammi non è stata una buona idea wow a loro le gomme piacciono un sacco proviamo di nuovo ah gomme ecco qua sono così popolare non masticate tutti in una sola volta mi prendo cura dei miei amici è vuoto non ce n'è più niente oh che delusione vabbè come farò adesso puoi avere un altro cookie sei un vero tesoro grazie è ora per il prossimo round aspetta vado io per prima sai che c'è prima tu grazie oh sì ora si che va meglio gelato al cioccolato wow manca qualcosa scaglie di cioccolato questo lo renderà ancora migliore ma guardale potrei divorarle tutte ma le verserò sul gelato è incredibile ok assaggiamo aspetta non vuoi vedere il tuo piatto certo spero sia qualcosa di carino guarda fuoco chissà se saranno piccanti chissà come saranno immagino che ci sia solo un modo per scoprirlo ok si coraggiosa non male oh ho parlato troppo presto è piccante wow lexi stai bene no ho bisogno di acqua un estintone del mais lo adoro cosa diavolo cos'è appena successo oh popcorn figo scusa leo ma che strano oh c'è dell'altro mamma mia intendo hai finito non è colpa mia come no il mio gelato è diventato una zuppa non preoccuparti ho una cannuccia e grazie mille è come un milkshake al cioccolato vado io per prima non è successo niente si fa così che sciocca ha funzionato gomma da masticare al melone sembra gustosa non vedo l'ora adoro il melone quindi mi piacerà è deliziosa sono felice che ti piaccia farò un palloncino wow oh è fantastico continua che fatica oh le vertigini piano non voglio che scoppia adesso ho avuto una grande idea lo farò scoppiare ehi lexi come wow come hai fatto ho dei superpoteri guarda un piatto pieno di cioccolatini beh addio dieta ne vale assolutamente la pena sono nel paradiso del cioccolato ancora ne voglio ancora li voglio tutti sono tristi sono gli ultimi ho amato ogni singolo secondo voglio provare a fare qualcosa le bolle di cioccolato si possono fare santo cielo che schifo puzza sto per vomitare ups è sicuro mai più ho ancora fame ok facciamo apparire del cibo bene può anche andare sono felice con qualsiasi tipo di cioccolato mangio prima io fai pure non vedo l'ora è così buona chissà quante ne posso mettere in bocca mi piacciono le sfide stai andando bene facciamo le bolle è molto divertente potrei farlo tutto il giorno tocca a te una grande barretta di cioccolato tutta per me che profumo secondo me è proprio buona ok adesso le darò un mosso oh sì è proprio buona sono contento che tu sia felice sei quasi carino sai mi sto divertendo devi lavarti i denti che cosa oh no che figura ecco prendi questo spero che funzioni come va adesso no prova questo grande idea meglio non ci siamo ci serve un super spazzolone ma il sospetto non farlo voglio avere i denti bianchi o la gomma questa sì che mi aiuterà mi piace come ti sembro wow hai un sorriso hollywoodiano finalmente il mio dentista sarà orgoglioso questa volta sei fritto lo credi tu io vinco sempre wow quanta gomma sul serio e la mangerò tutta oh guarda sembra una fettuccina che cosa sto aspettando oh giusto crema spalmabile mamma al cioccolato la tua crema al cioccolato sta per avere un bambino fai qualcosa miles ok mi devo cambiare sono pronto aspetta avrai bisogno di questi grazie infermiera lexi oh avrai bisogno di un'altra cosa questo è per i tuoi capelli sta per nascere un bambino di cioccolato misturi di gomma vado posso vedere qualcosa congratulazioni è un bambino spalmabile al cioccolato dobbiamo tenerlo al caldo ecco una coperta di gomme oh è così carino cuci cuci cu che giornata ok vediamo che cosa abbiamo qui io ho l'occorrente per i pancake e anche io e penso di sapere come renderli migliori scuotiamo per bene è fatto ma guarda che bei pancake così soffici e rosa è ora di mangiare niente batte la panna montata sul pancake oh ma come sono buoni e adesso tocca a me li scuoterò anch'io non vedo l'ora di mangiarli ma che diavolo forse devo scuotere ancora questa volta lo farò con più forza oh no guarda che pasticcio hai decisamente sbagliato qualcosa ok devo solo scuotere più forte forse scuotere non basta mi servono i rinforzi forza martello fammi dei pancake ehi mi aiuti a scuotere un altro po' bene questa volta saranno perfetti sì ha funzionato pancake dei deliziosi pancake neri guarda che bella pila di pancake e guarda cos'ho ne vuoi un po'? ecco lo sciroppo rosa sarà buonissimo ne sono sicuro ne aggiungerò un po' anche i miei ma non troppo il tappo oh no i miei pancake ehi nick mi dispiace però guarda qui risucchierò tutto quello sciroppo accidenti funziona ehi i miei pancake sono spariti tutti oh no è tutta colpa mia mi dispiace ormai è fatta ok vediamo fantastico devo assaggiarla che bella spirale tutta rosa voglio mangiare prima il centro oh wow ma com'è buona wow mi gira un po' la testa eh stai bene? sembri confusa ehi mi sento un po' stordita oh ma guardati sei tipo in un vortice che cosa non è vero sto seduto e basta sì vabbè ora mi mangio la torta aia è tagliente come faccio? meno male che ho delle pinze posso spuntare la torta wow ma guarda è un grosso pezzo di cioccolato non ti dispiace vero? ora mangerò la scheggia di cioccolato mmm è ottimo sta ancora in un altro mondo ora voglio divertirmi con un foglio e pennarello bene metterò un punto su ogni angolo del foglio uh cosa stai facendo? oh ehi ti servirà questo pennarello no è qua giù adesso ehi devi prenderlo e dai va bene ti aiuterò io eccoti qui unisci i punti allora vado dovrebbe essere abbastanza facile oh accidenti ma è davvero pazzesco ora vado al prossimo punto quasi fatto solo altri due punti ora fino all'ultimo punto sono troppo brava uh ci sono riuscita sono troppo brava sì certo ma riprenditi adesso eh che cosa? ehi aspetta ma ho disegnato quello è terribile beh non mangerò più la torta bene vediamo cosa abbiamo questa volta sì ciambelle che carine adoro una buona ciambella di prima mattina e sembrano fresche e guarda questi sprinkles salve salve lieto di conoscervi vi ho portato questo eh? cosa pensi che sia? oh se n'è andato credo fosse un mago beh tanto vale aprirlo e versarlo sulla ciambella guarda come luccica adoro i glitter wow wow la mia ciambella è enorme non vedo l'ora voglio darle un morso oh figo che boccone di cosa sa? non posso parlare devo mangiare la mia ciambella sembra un po' triste vorrei che anche la mia ciambella fosse enorme me ne prenderei cura per sempre mi assicurerei che fosse sempre il calduccio almeno finché non la mangio scommetto che avrebbe anche un buon sapore wow che sogno beh posso mettere anch'io questa roba sulla mia ciambella scommetto che sarà la ciambella più grande di sempre che cosa? com'è possibile? oh no è troppo buffa è così piccola pensi che sia divertente? beh allora guarda questo ehi guardala adesso adesso è ancora più grande ben ti sa eh non credo che dovresti morderla oh beh io mangerò la mia accidenti mi manca la mia ciambella noi ci auguriamo che questo video ti abbia fatto venire voglia di vederne altri gomma da masticare o cioccolato cosa preferisci? faccelo sapere nei commenti qui sotto ricordati di condividere questo video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri video divertenti come questo ciao 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 Grazie a tutti